group relax style il benessere a portata di mano salve a tutti sono alessandro cioce e sono felice di presentarvi le novità della group relax style azienda leader nel settore dei materassi grazie ai vostri consensi e ai successi ottenuti in questo campo group relax style è cresciuta ancora vi presento le nostre splendide poltroni relax che daranno a vostro corpo una perfetta forma fisica è una piacevole sensazione di benessere in questa avventura sarò accompagnato da marina ma dov'è davvero non si può resistere alla bellissima sensazione di un piacevole massaggio in totale relax e senza muoverti da casa mi sento in splendida forma pronta ad iniziare un nuovo giorno ed io voglio condividere con voi il piacere di conoscere queste meravigliose poltrone ecco i nostri strepitosi modelli luna marte mercurio giove venere saturno e orione disponibili in una vasta gamma di tessuti e colori per adattarsi sempre alle vostre esigenze le poltrone group relax style sono innovative dal punto di vista estetico e funzionale belle da vedere comode ma soprattutto versatili cosa chiedere di più a group relax style chiedere di più si può perché group relax style ti accontenta sempre ma andiamo ad esaminare nel dettaglio tutte le funzioni principali di queste innovative poltrone grazie a due motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe garantendovi un'assoluta comodità e sono dotate di una meccanica rinforzata in grado di sollevare pesi fino a 200 kg group relax style ha introdotto un'innovazione anche dal punto di vista funzionale infatti sono dotate di alzati in parallelo in grado di sollevarsi all'altezza di qualsiasi tavolo le nostre poltrone offrono il massimo del comfort anche grazie alla loro versatilità danno infatti la possibilità di usufruire di qualsiasi posizione si adatti meglio alle vostre esigenze se vorrete leggere ad esempio la vostra schiena sarà adeguatamente sostenuta da una struttura ergonomica adattabile se invece volete rilassarvi con il capo e la colonna vertebrale leggermente sollevati vi basterà utilizzare la posizione intermedia se volete sdraiarvi per dormire e consentire al corpo di rigenerarsi ecco la posizione letto la poltrona group relax style si estende in ogni sua parte donandomi il comfort totale di un letto i braccioli e le orecchie completamente removibili delle poltroni group relax style consentono di poter passare agevolmente attraverso porte anche di dimensioni ridotte il praticissimo tessuto antimacchia ti garantisce una poltrona sempre nuova nel tempo infatti pulire facilissimo grazie a questo speciale tessuto poiché lo sporco non penetra nella fibra rimanendo in superficie di conseguenza è sufficiente passare un panno per la pulizia un altro utile accessorio è il kit roller che consente di spostare la poltrona da una stanza all'altra senza alcuno sforzo la pratica batteria a litio consente alla poltrona di potersi stendere e sollevare senza il fastidioso ingombro del cavo il poggiatesta declinabile sostiene adeguatamente il tratto cervicale le poltrone group relax time danno la possibilità di usufruire dei massaggi personalizzati grazie ai vari programmi regalati sensazioni di benessere al prezzo scontatissimo di 450 euro chiama ora prenota la visita di uno dei nostri consulenti direttamente a casa tua regalati piacere di stare bene nel tuo corpo grazie all'incredibile varietà di massaggi offerti dalla nostra poltrone non solo shatsu ma anche presso terapia le braccia alle gambe e ai glutei dieci minuti di massaggio ti rimettono al mondo non perdere questa occasione chiama ora approfitta dell'offerta tv e concediti il piacere di possedere una poltrona group relax time per regalarti piacevoli sensazioni di benessere al prezzo scontatissimo di 450 euro prova le fantastiche poltrone group relax style alzata lift alzate in parallelo kit roller posizione letto schienale seduta in memory che si adatta ai contorni del corpo braccioli orecchie completamente removibili poggiatesta reclinabile tessuto antimacchia interamente sfoderabile ampia gamma di tessuti e colori programmi personalizzabili pressione airbag regolabile musicoterapia vibromassaggio due telecomandi per un pratico utilizzo uno per i movimenti della poltrona e l'altro per i programmi di massaggio copri braccioli copri schienali in omaggio assistenza su tutto il territorio nazionale iva al 4 per cento per gli aventi diritto vieni a trovarci in uno dei nostri showroom a noi cattaro o a modugno oppure chiama il numero verde in sovraimpressione prenota la visita di uno dei nostri consulenti per ricevere in omaggio il copri bracciolo o il copri schienale non dimenticate che le poltrone group relax style sono interamente realizzate in italia sono robuste indeformabili ma soprattutto sono garantite per ben cinque anni lasciatevi coccolare dalle poltrone group relax style per garantirevi un benessere fisico e mentale ineguagliabile fate come me scegliete group relax style group relax style ha pensato anche i più giovani che vogliono assicurarsi momenti di totale benessere direttamente dallo spazio per voi che volete il meglio per la vostra salute e il vostro corpo vi presento il modello orione orione quanto di più completo e innovativo si possa trovare nel nostro settore quando ci si sdraia su questa poltrona è come fluttuare in un'altra dimensione l'azione benefica dello schienale riscaldante scioglie le tensioni la musicoterapia fa sì che la mente possa rilassarsi approfittate del massaggio shazzo delle poltrone group relax style in ogni momento della vostra giornata il massaggio plantare che apporta un beneficio immediato in tutto l'organismo stimola le zone riflesse sulla pianta e sul dorso del piede i massaggi della colonna vertebrale a scelta sulle tre zone cervicale dorsale per lombare garantiscono in totale sicurezza lo scioglimento delle contratture della schiena il programma della trazione invece separa efficacemente le vertebre consentendo un'adeguata ossigenazione e riaccomoda gli spazi intervertebrali donandoti la consueta sensazione di benessere che la group relax style da anni offre con i suoi prodotti grazie ai 15 airbags sparsi e a tutti i programmi personalizzati delle poltrone group relax style ti sembrerà di avere vent'anni di meno dieci minuti di massaggio ti rimettono al mondo poltrono rione massaggi personalizzabili su tutto il corpo impasto allungamento picchiettamento martellamento presso terapia e trazione alle gambe salve a tutti ah Diego anche tu qui queste montrone sono comodissime e veramente le consiglio a tutti quanti bene a questo punto allora un ciao a tutti da Alessandro Marina e il piccolo Diego ciao